E' happening una scelta giusta ogni volta che avrete il desiderio di cantare, ballare e divertirti. C'è il tuo nome? Anna. Anna ma che ci fai seduta all'epnico? Come fai a rimanere ancora al tavolino? Il canta che ti passa? Non so, ti sta trasportando, ti piace, ti sta divertendo? Con i miei amici e il mio ragazzo. Sì ma canta che ti passa, non ti vedo attiva, stai partecipando allo show. Un altro poco. Allora sabato prossimo, precisamente l'11 e il 12 giugno potrai sognare a Nocera sotto le stelle con dei fili di abiti da sposa straordinari, ci sarà? Ok. Ragazzi lei ci sarà, naturalmente vi aspettiamo. Un bacio agli amici di Night in Day. Ciao. Ciao il tuo nome? Maria. Maria, sabato sera anche tu all'epnico caffè come mai? Eh ma ogni sabato si vede, non si può rinunciare all'epnico caffè. Benissimo, ma perché non si può rinunciare? Perché è troppo divertente, ci sta bene. Ragazzi all'epnico caffè il sabato sera è una serata eccezionale da non perdere, vero? Sì è vero! È la verità, è la verità, si diverte molto. Naturalmente ricordiamo non solo il sabato sera ma anche il venerdì con il karaoke. Sì sì è vero, anche serate di ballo pure, il venerdì. L'epnico caffè è anche un punto d'incontro per tutti i ragazzi che semmai preferiscono non allontanarsi e rimanere in zona. Sì è vero, è la verità. Ragazzi ma a voi cosa piace fare sotto le stelle? Ballare, ballare, ballare. Solo ballare? Diversimento, tanto divertimento. Naturalmente come quello che c'è qui all'epnico caffè. Un bacio agli amici di Night and Day. No, Night and Day! Le telecamere di Night and Day sono ritornate all'epnico caffè per un sabato davvero strepitoso. Grazie al lavoro di chi ama il divertimento ma soprattutto grazie a coloro che amano far divertire. E alla mia destra ho il piacere di intervistare il direttore artistico Mario Castellini. Buonasera. Buonasera, ben trovato a tutti gli amici di Night and Day e a te che sei una bella bella ragazza Marica. Grazie Mario, gentilissimo. E alla mia sinistra abbiamo il caro Biagio. Un bacione a tutti gli amici di Night and Day e a te Marica. Perfetto. Allora Mario, cantante, imitatore, cabarettista con il tuo show, canta che ti passa. Ma il divertimento è assicurato, si canta, si balla, si dà sfogo alle proprie doti canore. C'è davvero l'imbarazzo della scena. Ci danno sfogo le repressioni da stress a settimana intera, insomma. Qui vengono tutte le fasce di età. Copriamo tutte le fasce, il sabato sera oramai con il mio show live è diventato il giorno più forte. Poi come direttore artistico ci tengo a precisare che adesso ci sono 4 eventi settimanali, c'è il mercoledì sera. Infatti sottolineiamo. Con Tiziana Papa, col karaoke. Il giovedì sera ci sono gruppi live, li cambiamo sempre. Poi c'è il venerdì sera con Ida, sempre con il karaoke e DJ, quindi musica live anche. E il sabato sera il mio canta che ti basta show live, io sono più forte. Allora Biagio, le telecamere di Night and Day hanno catturato le immagini più belle di un sabato, io direi davvero imperdibile. I sabati all'happling sono sempre così con Mario Vassellino. E' giusto, perché Mario è un grande, abbiamo un direttore artistico che è il numero uno. Ma a parte questo, l'happling naturalmente si sta preparando per l'estate con degli eventi. Siamo già pronti per l'estate. Ma per quanto riguarda la stuzzicheria a me quello interessa. No, e quando riguarda la stuzzicheria stiamo programmando delle cose un po' più fresche, più innovative. Poi stiamo cercando di fare la stuzzicheria in base alla programmazione della serata. Perfetto, il giorno di chiusura? Il giorno di chiusura, ora dal mese di giugno non chiudiamo, chiuderemo verso la fine di settembre e metà ottobre. Quindi potete venirci a trovare tranquillamente tutti i giorni, dal lunedì al lunedì. Ecco, Mario, noi prima abbiamo detto che l'happling ha cambiato la sua immagine. Praticamente tutti quanti stanno ballando sotto le stelle, ma a te cosa piace fare sotto le stelle? Eh, non si possono dire tante cose. La cosa bella dell'happling sotto le stelle, non solo, è diventata una bella realtà, un bel momento di aggregazione. Quindi i ragazzi si trovano, si divertono, si riconoscono, si relazionano e qualcuno si è pure sposato con quell'happling. Quindi c'è veramente un bel ambiente e bella gente. Allora, vogliamo ricordare dove siamo? Siamo a Pagani, via Termine Bianco. Telefono per prenotazioni, feste 338, 12, 18, 415. Perché ricordiamo che l'happling è disponibile anche per le vostre feste private. Per qualsiasi tipo di festa privata. Finalmente ci sarai tu che penserai a tutto. Ci mancherebbe. Ok, io penso che abbiamo davvero detto tutto. Mario, hai dimenticato qualcosa oppure possiamo salutarli? No, possiamo solo ringraziare tutti coloro che scelgono solo l'Eppling Caffè, il locale solo per i numeri 1. Ok ragazzi, vi aspettiamo all'Eppling Caffè numerosissimi. Un bacio!